sarò costretto a mangiare la carne senza cuocerla dopo prometto che ora trovo il koal allora vediamo su koal dove sei? koal? koal? il koal non c'è potrebbe essere un problema no ragazzi non voglio usare il legno non voglio usare il legno è una sfida tra me e il cazzo di koal io devo trovare il koal quasi sentono dei versi di mostri rispetto a ieri funziona l'audio nelle cuffie quindi GG ora sento i suoni e il koal non c'è a posto sì sì mo morirò perché il koal non esiste in questa mappa esisteva solo in quel punto dove un creeper mi ha assaltato pesantemente niente no koal for me porco dai quando giochi se ne crea un miliardo di quel cazzo di materiale allora creiamo un piccone di ferro per iniziare tanto non morirò non potrà ammazzarmi questa mappa cioè di ferro che cazzo sto dicendo? di pietra c'è l'ha il ferro e facciamo anche una una spadina direi sì ok sì sì ragazzi sto delirando perché non c'è il koal cazzo qui il koal mi sta facendo sbroccare allora vediamo qua facciamo due vie diverse perché porco che spavento che mi è esploso in mano questo coso allora qui facciamo due vie diverse così utilizzerò più torce anzi no no guardate ora che cazzo faccio guardate ora che cazzo faccio come un vero pro gamer allora vediamo scava qua qua inizia a vedersi buio quindi io cosa faccio? buco qui metto questo qui ok e buco qui e magicamente vedremo anche di qua allora beh perché non vedo? ecco che vedo la luce ottimo cazzo che architetto che sono allora qua boh continuiamo a scavare un po' così niente non troverò non troverò del koal qua continuo a sentire dei rumori di mostri sempre più vicini porco ma ti pare? ti pare? porco allora facciamo così qui facciamo indietreggiare tutto di uno così eventualmente posso scappare indietro se ho bisogno allora tac 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 vedete l'architetto come come lavora allora dove cazzo è andato quel froscio? oh niente non si vuole più far vedere ha paura di me evidentemente ha paura ha paura proviamo ad aprire di qua non c'è di qua cazzo è? what? eccolo 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 dove cazzo è andato sto qua proviamo a minare anche questo coso qua oh ah ma questa è l'apertura oh cazzo non ti pare? attenzione io so che se per puro caso spacco questo coso e riesco fuori mi trovo ecco no vabbè lo zombie sti cazzi non è pericolo guardate il cheat con cui ammazzo gli zombie ora dov'è il creeper? dov'è il creeper di merda niente non c'è oh 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 eccone un altro guardate come come farmo gli zombie oh oh ma quanti cazzo ce ne sono? stiamo scherzando sono troppo forte sì ma a breve crepo perché non trovo il cazzo di coal what? questo ha recuperato una spada guarda qua che frocio sto coal ma quanti sono? ma stanno scherzando? cioè io se per puro caso uscivo lì che cazzo trovavo? allora scusa qua lo chiudo prima che mi entrino cazzo ne so dei ragni strani qua dentro e direi di passare al piano B cioè scavare in basso nest allora così andiamo ok no oh muori bitches allora chiudiamo qua no che non mi ha fatto chiudere sta merda a posto mio chiudi dai dov'è il cazzo di coal sta facendo apposta non farsi trovare boh qua che cazzo sto usando guarda la terra trovo tutto tranne il coal boh è improponibile niente non esiste del coal su questa mappa porco ho trovato un'altra apertura oh cazzo oh cazzo lo scheletro panico che cazzo è qua non posso salire porco siamo seri mi ammazza mi ammazza mi ammazza mi ammazza mi ammazza mi ammazza porco ma è serio sto coso che è salito qua sono morto sono morto sono morto sono morto no sono troppo forte cazzo sono troppo forte andiamo a chiudere subito sta cosa prima ok a posto sono troppo forte ragazzi allora ora qui la missione si fa sempre più complessa allora 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 come cazzo posso scavare di lì abbiamo capito che è pieno di mostri bastardi e noi abbiamo bisogno di trovare il cazzo di coal crack coal quindi proviamo a scavare in questo modo vediamo se siamo fortunati ma quanto pare il dio della fortuna anzi la dea della fortuna ce l'ha con me oggi e non vuole farmi trovare il coal prima per caso ne ho trovato un pezzettino ora qua inizia a diventare tutto buio ficchiamo una torcia guarda qua quanta vita ho no no io devo mangiare per forza allora mangiamo ste cose perché so già cosa succede che apro un muro qualcosa mi sciotta e muoio ok vediamo giriamo di qua niente non esiste non esiste del coal in questa mappa evidentemente boh ma siamo seri niente l'unica mappa oh del ferro trovo più ferro che coal non male non male buon trade posto qua ma devo scavare un'infinità ok ficchiamo dentro questi perché qua le cose o si fanno fatte bene o non si fanno cazzo allora altro ferro niente trovo solo ferro ma che cazzo è mi sta trollando sta mappa mi sta trollando pesantemente ferro a ripetizione coal coal eccolo odio odio il coal sono sono un uomo vivo ragazzi la mia morte passerà probabilmente anzi sapete cosa ora ho trovato il coal rischiando la vita rimanendo vivo a intemperie mostrie chi più ne ha più ne metta creeper eccetera e ora sicuramente torno su tipo è spawnato un ragno qualche puttanata mi ammazza sicuro sicuro 100% guarda qua quanto cazzo di coal posso spammare le torce ora cazzo sì allora vediamo un po' tan 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 ora mi sento forte ragazzi con tutto questo coal vediamo un po' mettiamo giù questo questo ok per prima cosa risalgo e mettiamo un po' a cuocere questa carne che palmo risalire tutte queste cose che cazzo di strada è oh ora sarà un macello ricordarsi sempre la strada oh è diventato giorno buono buono allora mettiamo questo qua due qua mettiamone tre così per sicurezza potrei quasi fare anche un'altra fornace già che ci sono potrei anche rendere la mia casa una casa migliore probabilmente potrei fare molte cose effettivamente oh rispetto al let's play di ieri ragazzi c'è molta più tensione in questa in questa mappa e devo dire porco che cazzo no no devo farla più grande non posso muovermi di un passo fare una porta potrebbe essere un'idea effettivamente hanno ragione sulla stream facciamone due una me la tengo in inventario per quando avrò una casa migliore a parte che la porta che cazzo è che va nel vuoto la mia porta boh qui non ho manco un'ascia vabbè io picconerò il legno perché io posso cazzo allora tac tac ok vediamo un po' la situazione sì potrei abbattere qualche albero ora guardate qua tac 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 dove sono andati i bastoncini fiendus qua allora tac uno due uno due uno due uno due ok oh che mi si dividono tutti i pezzi di questo coso ok qua tac 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 guardate qua che forza eh oh ce la posso fare ok ce l'ho fatta ehm a posto spacchiamo tutto questo ora metto un attimo a posto la zona qui attorno così vediamo di di ingrandire la casa di farla diventare una casa migliore più abitabile rispetto a quella di adesso allora tac ok ok anche di qua a posto mettiamo a posto anche questo di albero e ragazzi questo questo me lo sento diventerà un let's play potentissimo sicuramente muoio entro sono già sopravvissuto troppo e mi sono lacherato un sacco di volte sa che mi conviene farmi l'armatura forse potrebbe essere una buona idea lasciare un'armatura allora vediamo un po' tac tac ok come avete visto io ci ho creduto non ho usato il legno per fare il coal e il coal mi ha ripagato dannomene un sacco vediamo se qua dentro c'è qualcosa di interessante porco pure i danni da caduto allora qua è la mia è la mia zona questa ok no 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 mister creeper mi hai visto sei bloccato sei bloccato lì piccolo piccolo cucciolo non resti venire da zio zio si avvicina attenzione no si è sbuggato si è sbuggato oddio porco è un macello si è sbuggato dove vado dove vado qua 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 porco mi sono incastrato non mi sta più seguendo che cazzo è alien bot quel coso che continua a seguire porco mi davvero non si buggano più io che puntavo sul fatto di buggarli ma sicuramente non lo vedo si sta mimetizzando con qualche albero quel frosh dov'è 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 eccolo lì eccolo lì lui non mi vede però io vedo lui attenzione sta tornando nella sua dimora torna ci vedete la paura che ha io uso le spade per prendere le cose qua allora le cose più utili che posso farmi sono un'armatura un'arco e non so che cos'altro un'armatura un'arco e delle armi vediamo partiamo no non ce la faccio hop pam 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 ok si è arrivato il momento di ingrandire la casetta spacchiamo un po' ste merde guarda qua a posto allora vediamo quanto legno ho intanto ne ho tantissimo di legno vediamo 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 qui questo lo rompiamo questo lo rompiamo questo anche ok vediamo poi devo migliorare un po' la roba esterna perché ecco inizio a metterli a caso tac ok non è molto più grande però potrò viverci dentro molto meglio rispetto alla casetta anzi non è orco sta tornando sta tornando lo stronzo mi ha visto oh wait iscriviti Grazie a tutti.